questo è ciò che mi travolgi con le schegge questo smette se no vai dall'altra parte si questo qua smette se no dopo il giro cerca un altro tronco ok vediamo se il filo si è schiacciato perché è molto fine no il filo non ha avuto un cazzo tatatà cazzo è un bel attrezzo allora il disegno è mio e lui me l'ha fatto io ho voluto farlo convex da una parte concavo dall'altra